Facciamo il punto della situazione coronavirus nel nostro comune, Lizzano in Belvedere, Appennino Bolognese, alla data odierna 17 marzo. Allo stato attuale non risultano persone contagiate. La popolazione sta operando in modo corretto nel rispetto delle regole stabilite. Invitiamo nuovamente tutti a stare in casa, ad uscire solo per i servizi indispensabili. State in casa, perché la vostra, la nostra salute è condizionata dai comportamenti di ognuno di noi. Non bisogna cercare spedienti di sorta per giustificare l'uscita di casa. La Croce Rossa, in accordo con il nostro comune, è disponibile per le persone anziane e o in particolare difficoltà negli spostamenti ad effettuare gratuitamente consegne a domicilio di spese alimentari e di medicinali di prima necessità. Supernotazione. Invitiamo a non approfittarne per chi non è nelle condizioni richiamate. Ringraziamo nuovamente chi in queste quattro settimane ha operato in mezzo a difficoltà mai viste a poter governare questa difficile situazione, in particolare i nostri vigili urbani, i carabinieri, la Croce Rossa, le farmacie, il soccorso alpino e i servizi commerciali aperti per le esigenze della nostra gente. Infine, vogliamo ringraziare anche i nostri uffici aperti al pubblico su prenotazione telefonica per problemi urgenti e per le esigenze amministrative del nostro comune. Restiamo uniti. Rispettiamo regole e suggerimenti delle autorità amministrative dello Stato e sanitarie. Supereremo questa emergenza sanitaria. La nostra Italia ce la farà. Ce la faremo.